Nessun contenzioso, ma i debiti restano. Allo Stato non sussistono contenziosi tra il Comune e il candidato sindaco Chiuto. A dirlo è il commissario prefettizio a Palazzo dei Bruzzi, Angelo Carbone. La frase è contenuta alla fine di una lunga informativa che il funzionario dello Stato ha spedito nelle scorse ore in prefettura. Deve 300.000 euro pignorata la casa a Scopelliti. La Cassazione conferma la condanna erariale infitta dalla Corte dei Conti all'ex presidente della regione ed ex sindaco di Reggio Calabria per aver stipulato nel 2004 il contratto di acquisto dell'ex stabilimento di trasformazione degli agrumi Ital Citrus. Buon compleanno Polizia! Anche la Calabria festeggia il 164esimo anniversario della Polizia di Stato. Picchetto d'onore anche a Cosenza e Vibo Valencia. Reggio, Bella e Verde. Il sito web Virgilio.it conferma il lungomare della città in riva allo stretto tra i più belli d'Italia, mentre l'Istat la incorona prima al sud per spazi verdi urbani. Vito Di Bari si presenta. Il neodifensore giallorosso abbraccia i tifosi del Catanzaro. A loro dice sono qui per vincere. Buonasera ai telespettatori di LACI e benvenuti ad una nuova edizione di LACI News 24. Da Palazzo dei Bruzi è filtrata l'informativa trasmessa dal commissario straordinario Angelo Carbone in merito alle posizioni debitorie di Mario Occhiuto. Al momento non si registrano condizioni di ineleggibilità o incompatibilità dell'ex sindaco che aspira alla riconferma, ma emergono diverse omissioni da parte degli uffici comunali. Sentiamo i dettagli. L'unico dato certo che emerge è l'amore di debiti personali accumulati dal sindaco uscente Mario Occhiuto nei confronti di equitarie e di imprese private, ma allo stato attuale l'architetto non ha contenziosi in atto con il comune di Cosenza. Lo scrive il commissario straordinario di Palazzo dei Bruzi, Angelo Carbone, in una relazione dettagliata giunta per il tramite della prefettura sul tavolo del ministro dell'Interno Alfano. Il titolare del Viminare dovrà adesso avvalersi di questa documentazione per rispondere all'interpellanza avanzata da un nutrito gruppo di parlamentari calabresi capeggiati dal segretario regionale del PD Ernesto Magorno. Il comune, è vero, è stato citato come organismo terzo pagatore, già in un caso quello relativo al credito vantato dalla finanziaria della Porsche nei confronti di Occhiuto ha già stornato somme per un importo di circa 21.000 euro trattenute dall'indennità dell'ex primo cittadino. Ma in questa fase non vi sarebbero condizioni di incompatibilità o ineleggibilità pendenti sull'architetto in piena corsa per la riconferma. Secondo il segretario provinciale del PD Luigi Guglielmelli, la relazione del commissario straordinario ha certificato che Mario Occhiuto è un debitore esecutato. L'informativa del commissario di Palazzo dei Bruzi, aggiunge il segretario, elenca una molteplicità di procedimenti che coinvolgono il comune di Cosenza nel pagamento dei debiti privati di Mario Occhiuto. Inevitabilmente si generano contenziosi, ha aggiunto Guglielmelli, che, seppure allo Stato ancora non sono registrati, determinano la condizione di incompatibilità con la carica di sindaco. Alfano dovrebbe dare una risposta definitiva nei prossimi giorni, probabilmente prima del 5 giugno la data del voto amministrativo. Certamente vi sono state delle omissioni da parte degli uffici comunali su cui bisognerà fare chiarezza. Salvatore Bruno per la Cineus 24. La Cassazione conferma la condanna erariale a risarcire la pubblica amministrazione con 300 mila euro, inflitta dalla Corte dei Conti a Giuseppe Scopelliti, ex Presidente della Regione ed ex Sindaco di Reggio Calabria dal 2002 al 2010, per aver stipulato nel 2004 il contratto di acquisto dell'ex stabilimento di trasformazione degli agrumi Ital Citrus, ipotecata la casa coniugale quindi dell'ex governatore. Sentiamo. Ha provocato un danno alle casse del comune di Reggio Calabria, quindi dovrà risarcire lo Stato. Ecco la sentenza definitiva che condanna l'ex sindaco di Reggio Calabria, governatore regionale Giuseppe Scopelliti, a risarcire con 300 mila euro la cittadinanza per lo scandalo Ital Citrus. Il giudice di Piazza Cavour mette la parola fine su una vicenda che andava avanti da 12 anni. Nel 2004 il comune di Reggio, su iniziativa proprio dell'ex sindaco, acquistò l'area dell'ex fabbrica di trasformazione degli agrumi, un bene di scarso valore perché in completo abbandono è pieno di amianto. Il prezzo sborsato dei contribuenti fu di 2 milioni e mezzo, a favore del proprietario dell'area, l'imprenditore Emilio Francesco Falcone. Una circostanza che richiamò l'attenzione della Corte dei Conti, che condannò il sindaco e un dirigente comunale per danno erariale ad un risarcimento insolido per 1 milione e 300 mila euro. Peraltro la Corte dei Conti mise in luce che la perizia sulla quale fu stabilito il prezzo conteneva una stima pari al doppio di quella effettuata appena qualche anno prima da un tecnico nominato dal Tribunale Reggino. Fu il primo scandalo dell'era Scopelliti. Si è chiuso ieri con la condanna al risarcimento e l'ipoteca di una casa dell'ex governatore Francesco Creazzo per la Cinius 24. Il Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Camillo Falvo, ha chiesto la condanna all'ergastolo per gli 11 imputati nel dibattimento denominato Gringia dietro le Quinte, nato dalle due operazioni contro il clan Patania riguardante la sanguinosa faida tra la cosca di Stefanaconi e il gruppo dei Pisco Pisani. E voltiamo pagina. La Polizia festeggia il 164esimo anniversario. Festeggiamenti in tutta Italia, anche in Calabria. A Vibo e Cosenza presenti le più alte cariche militari e conferiti gli encomi solenni al personale distintosi in servizio. Si sono svolte anche in Calabria le celebrazioni del 164esimo anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato. Cerimonie alla presenza delle massime autorità si sono tenute nei cinque capoluoghi di provincia della Regione. Alle iniziative territoriali sono pervenuti i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell'Interno Angelino Alfano e del Capo della Polizia Franco Gabrielli, che hanno rimarcato l'impegno delle forze di polizia nel presidio del Paese sul piano della pubblica sicurezza, dell'antiterrorismo e del contrasto alla criminalità organizzata. Da questori calabresi sono state altresì rimarcati lo spirito di sacrificio degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, il valore della necessaria collaborazione con le altre forze di polizia, nonché il sacrificio di servitori di Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere. Evidenziato inoltre l'importanza delle organizzazioni sindacali di polizia, come ha fatto il questore della città capoluogo Giuseppe Racca, che ha inoltre invocato la collaborazione dei cittadini. Uniti si vince contro l'illegalità, contro la criminalità in tutte le sue forme, da quella comune a quella organizzata che qui si chiama Drangheta. Insieme si vince, noi vicino alla gente e la gente vicina a lui. Esserci sempre il nostro motto perché noi corriamo e rispondiamo a tutte le chiamate dei cittadini e più ci segnalano i cittadini e più noi veniamo a conoscenza delle problematiche. Uniti con le altre istituzioni e la cittadinanza onesta, completa, si vince. Da Vibo Valencia per la Cineus 24. E' sempre in occasione della festa della Polizia, siamo stati anche alla scuola allievi agenti di Vibo Valencia dove abbiamo sentito il questore Filippo Bonfiglio. Sentiamolo. Ho voluto ricordare due poliziotti caduti in servizio a Milano che questa città, questa scuola ricorda con la piazza Annarumma, come ho già detto, nel centro cittadino e con il ricordo da parte di questa scuola ad Andrea Campagna, questo agente della Digo, ucciso a Milano nel 1979. E' chiaro, quotidianamente abbiamo dei caduti in servizio, abbiamo persone che purtroppo perde la vita, abbiamo tantissimi feriti, c'è gente che purtroppo rimane invalida e deve abbandonare il servizio. Fa parte delle nostre attività, fa parte del giuramento che abbiamo prestato. E' una cosa che facciamo con lo spirito di sacrificio che contraddistingue gli appartenenti alla polizia sin dalla sua fondazione. Un uomo Renato Cagliotti di 66 anni di Soriano Calabro ha aggredito con pugni e calci il sindaco del piccolo centro vibonese Francesco Bartone, costringendo lo stesso a recarsi in ospedale per sottoporsi alle cure del caso. L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, si è poi costituito ai militari della locale stazione dei Carabinieri, dove è giunto accompagnato dal suo legale di fiducia. Ancora da chiarire le motivazioni dell'aggressione, mentre al sindaco Bertone sono già giunte diverse attestazioni di solidarietà. Tra queste quella della parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, che ha richiamato la necessità di stabilire un'alleanza civile tra politica, comunità locali e forze di polizia. Voltiamo pagina. Assemblea nazionale della UIL alla Mezzia Terme su mezzogiorno, infrastrutture, lavoro e legalità uniti per un nuovo modello di sviluppo. Il futuro del mezzogiorno al centro del convegno nazionale della FENE al UIL e della UIL pensionati alla Mezzia Terme, dalle opportunità mancate alle eccellenze da valorizzare. Un confronto tra il sindacato e i lavoratori, con particolare attenzione alle questioni dell'edilizia e del territorio. È stato Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL, a evidenziare il fatto che il mezzogiorno ha bisogno di infrastrutture, altrimenti non ci sono prospettive di sviluppo e di occupazione. E se non cresce il mezzogiorno, ha affermato Barbagallo, non cresce il Paese. Per sviluppare il mezzogiorno occorre deleggiferare. 153.000 leggi non servono per lo sviluppo del Paese. Bisogna avere un credito che sia uguale da Trento a Trapani e invece nel mezzogiorno costa di più. A Salerno, Reggio, Calabria, da quanti secoli ne parliamo, dobbiamo infrastrutturare le aree produttive, dobbiamo creare le condizioni per l'innovazione tecnologica, quindi l'alta velocità deve arrivare fino al sud e bisogna fare in modo che anche noi come sindacato facciamo la nostra parte. Bisogna che il sindacato crei le condizioni per gli insediamenti nuovi delle imprese, dando flessibilità salariale di orari e di organizzazione del lavoro alle imprese che si vengono a insediare nel mezzogiorno. Rossella Galati per la Cineuse 24. Il Movimento 5 Stelle continua a far sentire forte la sua voce in più ambiti. Dopo i riflettori puntati sulla sanità calabrese, nei giorni scorsi l'incontro con il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, è servito ai deputati pentastellati anche per riassumere le questioni fondamentali in tema di salvaguardia dell'ambiente. Ai nostri microfoni sentiamo le dichiarazioni di Paolo Parentela. Ci siamo anche soffermati sulla questione ambientale, in particolare anche sulla nomina del dirigente Pallaria, che secondo noi è legittima. Pallaria gestisce diverse poltrone nella regione Calabria. Nella questione ambientale ho ricordato l'esposto che abbiamo fatto in merito alla famosa discarica a fantasma di Borgia, che quasi passate un anno e ancora non abbiamo novità. Il sito è ancora sotto sequestro, quindi abbiamo chiesto anche risposte per queste denunci che abbiamo fatto sull'ambiente. Poi avete visto anche il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, che ha puntualmente rilevato dei siti contaminati che noi da più tempo abbiamo denunciato, come quello della discarica bagni in località alla Mese Terme, la discarica Marra vicino al comune di Gimigliano e la discarica anche di Casignana, che ancora continua questo mostro, questa bomba ecologica e bisognerebbe un attimino portare una risposta celere dal punto di vista della giustizia e delle responsabilità. Rossella Galati per la Cineus 24 E restiamo a Catanzaro per occuparci ora del sit-in di protesta dei medici del 118 convenzionati che lamentano una disparità di trattamento sia economico che giuridico rispetto alla figura del dirigente medico. Sono scesi in piazza a Catanzaro i medici del 118 convenzionati contro le differenze giuridiche ed economiche rispetto alla figura del dirigente medico. Una manifestazione per dire basta alla disparità di trattamento per quanto riguarda le ferghi e la malattia retribuita, i congedi straordinari per aggiornamenti, il TFR e così via. Dobbiamo cercare di lavoratori che hanno identiche attività e devono avere il stesso tipo di contratto convenzionato e personale dipendente. Deve finire perché è come se tra i vigili del fuoco, tra la polizia, una parte avesse un contratto e una parte avesse un tipo di contratto nettamente peggiorativo rispetto all'altro. Si tiene di protesta oggi per sensibilizzare l'opinione pubblica, i politici, il commissario scura perché gli strumenti ci sono. Devono attivarli perché tutti i lavoratori che fanno un certo tipo di attività devono avere lo stesso contratto. Dunque quello che si chiede è una normativa di transizione per l'emergenza 118 che prevede il passaggio alla dirigenza di tutti i medici in servizio convenzionati. Rossella Galati per la Cineus 24. Non solo il più bel chilometro d'Italia ma anche tanto verde. Reggio Calabria si conferma tra le primissime nel nostro paese per bellezza del lungomare ma anche la prima al sud per spazi verdi urbani. Il chilometro di Reggio Calabria rientra tra i cinque più belli d'Italia, dopo Salerno, fino alle Ligure, San Benedetto del Tronto e Bari. A dirlo è la classifica stilata da Virgilio.it. Ma questa non è certo una novità. Il lungomare è infatti conosciuto come il chilometro più bello d'Europa. A renderlo ancora più spettacolare è la vista che si affaccia proprio sullo stretto di Messina, regalando soprattutto nelle giornate più belle un panorama emozionante, facendo da cornice alla Sicilia e l'Etna. Una passeggiata che si allunga per un chilometro appunto, partendo dal Castello Svevo per arrivare all'incrocio tra le centralissime Corso Vittorio Emanuele e Corso Cavour. Curato, pulito e sempre in ordine. Ed è anche per questo che Reggio rientra nella classifica delle città del sud più green, contando secondo i dati Istat più di cento metri quadrati di verde a persona. Praticamente un campo da calcio per ogni abitante. Nel meridione d'Italia solo Potenza può vantare numeri così. Male le altre province calabresi. Malissimo Crotone che insieme all'Aquila, Ascoli Piceno, Foggia, Lecce, Enna, Trapani, Caltaninsetta, Siracusa e Olbia, rappresenta il fanalino di coda per aree verdi nel nostro paese. Da Reggio Calabria per la Cegnus 24. È stato il principe Emanuele Filiberto di Savoia a consegnare all'azienda di Limba di Caffo la certificazione identificata con il marchio di Casa Savoia. Da Casa Savoia direttamente in Calabria, lì dove la distilleria Caffo di Limbadi ha deciso di mantenere l'intera filiera senza delocalizzare nessuna delle fasi di produzione, motivo per il quale il re dei liquori si è giudicato il prestigioso riconoscimento eccellenza italiana ideato dal principe Emanuele Filiberto di Savoia. Ed è stato proprio il discendente della Casa Reale a consegnare personalmente la certificazione nelle mani di Pippo e Nuccio Caffo, presente e futuro della famosa distilleria, leader in campo nazionale ed internazionale di digestivi alcolici. Perché non si parla di più di queste aziende che sono veramente il fiore all'occhiello della nostra economia, che sono delle aziende importanti, soprattutto quando si arriva nel sud Italia dove purtroppo si ha più facilità a parlare di cose brutte, abbiamo delle cose belle, delle vere e proprie eccellenze e sono queste che non solo trainano la nostra economia perché sono in Italia, spendono in Italia, ma in più sono quelle che ci danno lustro all'estero. Il rilascio della certificazione è resa possibile grazie alle verifiche della Bureau Veritas Italia, azienda leader a livello mondiale nella valutazione ed analisi dei rischi legati alla qualità, all'ambiente, alla salute, alla sicurezza e alla responsabilità sociale. Dietro al lavoro, dietro a tanti prodotti calabresi che si trovano sui mercati ci sono anche tanti studi e questo serve anche come base per il futuro e per avere risultati di qua speriamo ai prossimi cento anni, che noi i primi cento li abbiamo superati. Da Vibo Valencia per la CNews24. Giornata dedicata al digitale nel mondo della scuola. A Catanzaro, su iniziativa dell'Ufficio Scolastico Regionale, sono stati premiati gli studenti delle scuole secondarie che hanno partecipato ad un concorso con idee imprenditoriali innovative. Il mondo della scuola va sempre più verso il digitale, importante strumento di innovazione che contribuisce in maniera significativa allo sviluppo delle metodologie di apprendimento. Partendo da questo concetto, il Teatro Politeama di Catanzaro ha ospitato tre iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie e agli animatori digitali, ovvero il seminario Apprendere Digitale, il concorso Book Trailer in School e la competizione regionale Impresa in Azione. Partner dell'iniziativa organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale, la Camera di Commercio di Catanzaro, che come ha affermato il suo presidente Paolo Abramo, tra l'altro in veste di presidente di giuria per il concorso, in materia digitale rappresenta un'eccellenza nel panorama della pubblica amministrazione. I giovani studenti che quest'oggi ci hanno stupito per le loro fantasiose idee, ma soprattutto per la loro capacità acquisita nella scuola tecnologica e anche molti per la loro capacità linguistica, la conoscenza della lingua inglese, che è indispensabile in questo mondo globalizzato. Questa mattina la novità era la scuola senza carta, la scuola senza libri, la scuola innovativa tra le 13 al mondo, l'Orestad Ginnapsium di Copenaghen, Danimarca. Prima c'è stata la relazione del rector, del dirigente scolastico della scuola, una scuola che è architettonicamente come ambiente di apprendimento innovativa perché non ha le classi, non ha i laboratori, non ha corridoi lunghi, ma semplicemente degli spazi comuni per le quali ci sono delle isole digitali in cui i ragazzi possono tranquillamente lavorare con le loro apparecchiature digitali. E naturalmente c'è anche quella che si chiama Flipped Classroom, cioè la classe capovolta, per cui sono gli stessi ragazzi che costruiscono le lezioni sulla base di input dei docenti e poi le riportano anche in classe. Rossella Galati per la CNews24. Lo scrittore Pino Aprile ha presentato il suo ultimo libro, Carnefici, nel corso dell'iniziativa Comunicare il Sud, ospitata presso l'Università della Calabria. C'eravamo anche noi. Carnefici, l'ultima fatica letteraria di Pino Aprile, è stata presentata all'Università della Calabria nel corso di una manifestazione dal titolo Comunicare il Sud, organizzata dal Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Ateneo di Arcavacate insieme al Movimento Giornalisti d'Azione. Gremita l'aula solano con centinaia di studenti ad ascoltare il prestigioso Parterre, composto dal vettore Gino Crisci, dal caporedattore del Mattino Marco Esposito, dalla giornalista Rai Livia Blassi. Pino Aprile identifica l'origine della questione meridionale nel processo di unificazione del Paese, con il Sud ricco e acculturato, depredato dal Nord che continua ancora oggi ad alimentare l'emigrazione delle intelligenze più acute e dei migliori talenti. Sono stati unificati i confini, ma sono stati divisi gli italiani. Non avendo la dimensione di questi grandi, mi sono detto troviamo le carte, le prove che al Sud fu compiuto il genocidio, perché si sa che è stato compiuto. Si fa finta di negarlo dicendo le carte? Qualche carta viene da testi, rapporti ministeriali, relazioni al Re, atti parlamentari, statistiche nazionali, cioè tutti i documenti di fonte che più ufficiale non si può. Salvatore Bruno per la CNews 24 E siamo allo sport calcio, primo nuovo tassello del Catanzaro, targato 2016-2017. Vito Di Bari, neodifensore giallorosso, si è presentato ufficialmente ai tifosi dicendo sono qui per vincere. Avevo bisogno di un progetto e soprattutto volevo ritornare al Sud, perché secondo me il calcio, io sono fiero di essere terrone, mi piace perché il calcio al Sud si vive in modo diverso. Ci sono delle responsabilità maggiori, però è bello, è bello perché piazze come Catanzaro ti possono togliere tanto, ma ti danno anche tanto. Io ho visto le immagini dell'ultima partita, è da brividi perché il Lega Pro non succede in tante piazze, quello che è successo a Catanzaro è una sfida salvezza, quindi uno può solo immaginare, io ho giocato col Catanzaro quando ho vinto la C1, è andata in B con Corona, questi giocatori qua a Pastore, era un ragazzino, giocavo nella fermana, quindi anche la trasferta a fermo dei tifosi mi è rimasta impressa. Quindi mi sono preso veramente pochi giorni per riflettere, poi con la mia famiglia, con mia moglie ho deciso di mettermi in gioco, voglio finire la mia carriera ricordandomi di aver fatto qualcosa di importante, quindi so di avere delle responsabilità e me le prendo tutte, quindi io posso solo dire che i risultati si ottengono con il lavoro, non conosco tutte le squadre che sono state, solo con il lavoro si può raggiungere degli obiettivi. L'automobilismo ora, il campionato velocità montagna scalda i motori, confermata la tappa sulle alture di La Mezzia Terme, la cronoscalata del Reventino si correrà dal 5 al 7 agosto. La diciottesima edizione della cronoscalata del Reventino è pronta a partire, la competizione calabrese in programma dal 5 al 7 agosto sarà inoltre l'ottavo round del campionato italiano velocità montagna, valido per il trofeo italiano velocità montagna sud. Manifestazione organizzata dalla Mezzia Motorsport in collaborazione con l'automobile Club Catanzaro, reduci dal successo allo slalom curinghese della scorsa domenica. Confermato il tracciato classico che dalla Mezzia Terme porterà i piloti a Platania, un percorso selettivo, spettacolare e caratteristico, amato soprattutto dai migliori scalatori. Tutti i dettagli sono stati curati dagli organizzatori, tanto per i piloti e addetti ai lavori, quanto per il pubblico che ogni anno accoglie con entusiasmo la manifestazione sportiva calabrese. Si parte da Simone Faggioli che proprio in Calabria, salendo sul gradino più alto del podio, vinse il suo undicesimo trofeo tricolore, seguito da Christian Merli, driver trentino. Medaglia di bronzo per il Cosentino Domenico Scola, dalla Mezzia Terme per la Cignus 24. E Crotone si riconferma ancora una volta città della vela, grazie a due importanti appuntamenti previsti per luglio 2016 e settembre 2017, ovvero i campionati europei e i campionati nazionali giovanili di vela. Alla cittadella regionale la presentazione ufficiale. Hanno fortunato per lo sport calabrese, ai grandi successi calcistici e non solo, si aggiungono alcuni appuntamenti che porteranno ancora una volta alla regione alla ribalta nazionale e internazionale. Sarà a Crotone lo scenario ideale per i campionati europei di Optimist in programma dal 15 al 22 luglio, mentre sono previsti per settembre 2017 i campionati italiani giovanili. Si svolgeranno a settembre del 2017 a Crotone, quindi in Calabria, i campionati giovanili di vela delle tre classi, Optimist, Laser e Windsurf. Parliamo di 900 atleti spalmati in due settimane, anzi concentrati in due settimane per fare di Crotone la città della vela e della Calabria la regione della vela. Crotone ha tutte le carte in regola per fare bene. Inoltre c'è una scuola a vela che comincia a sfornare campioni e proprio di ieri la notizia che parteciperanno ai campionati del mondo di Optimist in Portogallo due atleti di Crotone ed è una prima volta in assoluto. La federazione ha voluto assegnare a Crotone quello che è l'evento più importante del mondo giovanile nazionale, i campionati nazionali che si svolgeranno a Crotone nel 2017. Per noi è assolutamente un inizio di collaborazione perché quello che il circolo, quello che il territorio ha fatto in questi due o tre anni è veramente grandissimo, sia in crescita numerica ma soprattutto anche qualitativa. Rossella Galati per la CNews24. E questo era l'ultimo servizio per questa edizione. Prima di salutarvi vi ricordo che dal lunedì 30 maggio il nostro telegiornale andrà in onda nei seguenti orari alle 7. la prima edizione con rassegna stampa, l'edizione del giorno alle ore 14 e l'edizione della sera alle ore 19 e 30. È veramente tutto, grazie come sempre per la cortese attenzione, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal 30 maggio le edizioni della CNews24 cambiano orario. Alle 14, alle 19 e 30 e alle 24. I calabresi sono informati.